...e che non ignoranza come prima, ma non siete peste da cuccioli, credibili, o meno. Questa è la finale. Campione in carica, Torino. Contro le scendanti. Posse. Posse. Propaglia contro Montaglia. Paraglia contro Montaglia. Paraglia contro Montaglia. Si fissi che la di Babaccia, la di Camus. Pronti? Ah, siccome è l'ultimo, sarà da due round a due minuti. Ok. Pronti? Vieni. 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 Sop. Sop. Sop, sit. Grazie 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 Grazie